Un nuovo bagno di folla stamani per il Salone Orienta Media, scegliere oggi per essere domani, che si svolge al centro feristico Etnespo Etnapolis fino a domani. Per la terza giornata centinaia e centinaia di studenti medi di primo grado hanno invaso i vari padiglioni alla ricerca delle informazioni da acquisire per poter fare la scelta giusta che guardi al futuro. Questo orientamento di quest'anno sta avendo un grande successo. E' in un ambiente più concentrato, c'è la possibilità di presentare meglio in sala conferenza tutta l'offetta formativa delle scuole, un'affluenza da tutta la provincia con partecipazioni importanti da parte anche delle associazioni professionali, dei dirigenti scolastici e da parte anche delle associazioni che si occupano di orientamento scolastico. All'interno di Orienta Media non solo gli stand dei vari istituti ma anche tanti convegni? I convegni sono orientati a presentare le tre filiere, la filiera dei licei, la filiera degli istituti tecnici e la filiera degli istituti professionali, sia quelli statali sia quelli regionali. Tutte le scuole che qui hanno portato dei video hanno avuto la possibilità di presentarli in conferenza, gli studenti di scuola media molto attendi, accompagnati dai loro docenti che sono molto interessati e partecipano. Naturalmente si guarda anche agli sbocchi professionali nel mondo del lavoro, con una formazione che si potrà completare alla fine del percorso di studi presso istituti professionali e non, in modo da immettersi subito all'interno del circuito produttivo. L'Istituto Canizzaro ha avuto sempre come primo obiettivo quello di inserire poi i ragazzi anche nel mondo del lavoro? Assolutamente sì, questo è l'obiettivo principale, stage, alternanza scuola-lavoro e formazione. Tutti i nostri periti sono orientati tutti ad entrare nel mercato del lavoro, se poi vogliono proseguire all'università tanto meglio per loro, ma l'obiettivo nostro è quello di preparare e di predisporre un personale che sia subito disponibile e pronto per entrare nel mercato del lavoro, anche locale, anche catanese. Un'offerta formativa a 360 gradi, quella proposta da Orienta Media, con scuole moderne e all'avanguardia e con progetti particolari che prevedono attività anche nelle ore extracurriculari. Orienta Media è organizzato dall'ononima associazione culturale preseduta da Giussi Caltabiano e Giuseppe Tringale con l'aiuto del Fondo Sociale Europeo.